questa mattina mi trovo in Varsassina in direzione vigna settentrionale ho parcheggiato la macchina dopo Valladio c'è un rettilineo sulla sinistra c'è una stradina che c'è scritto vista al sito personale entrate di un centinaio di metri e potete parcheggiare e si procede c'è un rettilineo c'è un rettilineo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, arrivato al bivacco Riva Gironi. No, perché non è bestiaria perché di adesso ci sono le nuore, l'aria è un po' più freschina, si parte, cosa sta qua e si guida. Grazie a tutti. 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 Allora, si ritorna, ho deciso di fare il ritorno nel sentiero quello estivo, ci sarà un po' di neve in basso ma almeno facciamo un giro d'anello. Non vedo l'ora di arrivare giù in basso perché fischia che freccio. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Ciao.